ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale in un mio nuovo video oggi andiamo a vedere insieme il tutorial di questi salvetti netto struccanti hanno una forma diversa rispetto a quelle precedenti c'è una forma quadrata quindi molto più facili da realizzare rispetto ai precedenti se desiderate vedere il tutorial precedente non vi resta che trovare il link nel box informazioni o in alto nelle nelle schede vedrete che questo è veramente facilissimi da fare se vi piace questo video mettete like cliccate sulla campanella per non perdervi nessun video che verrà caricato nel mio canale condividete i miei video un like e supportatemi e adesso iniziamo subito per questo progetto vi serviranno degli spilli forbici un gessetto da sarto io sto usando questo che scuro panno lenci e sto fettine che per me sono di recupero e sono molto carine rosa può utilizzato questa spugna che una spugna di recupero perché non un vecchio asciugamano però in questo caso ho utilizzato il bianco che comunque una spugna che ho trovato ho comprato in un negozio un po di tempo fa utilizzo appunto queste stoffette che vi ho fatto già vedere rosa a pua bianchi ma iniziamo subito stendendo bene la mia spugna ho gli spilli alla mano per disegnare il mio quadrato utilizzo questo righello da patchwork quadrato prendo le misure chiaramente ognuna di voi sceglierà le misure che più di tanti di tutte vi saranno utili ecco ariel che sempre in mezzo vuole anche lui cucire ve l'ho detto che aria il mio aiutante sarto voi non ci credete prendo le forbici una volta che ho deciso la grandezza questa la decidete voi e mi ritaglio il mio quadrato ed ecco qui questo dipende dalla grandezza insomma che desiderate voi poi alla fine è a vostro piacimento non vi do le misure perché ve lo scegliete voi insomma quanto volete farlo grande misuro se il quadrato è perfetto in questo modo ritaglio una parte magari che non va bene e inizio a ritagliare anche la mia stoffa di recupero quindi metto sopra il mio quadrato che ho già realizzato poi inoltre metto ecco qua gli spilli ma lo spillo bene bene se ne siete ancora agli inizi del cucito potreste anche imbastire ma insomma per queste cose così facili la precisione assoluta non importante mi prendo il mio cutter e inizio a tagliare nel tutti i lati potete utilizzare anche questi pesetti sempre della prima trovate nel box informazioni tutti i link per poterli acquistare su amazon se volete per fare prima utilizzo il cutter ed ecco qui mi sono ritagliata anche il pezzo di stoffa ed ecco qui già due parti tolgo gli spilli ecco qui ho già le due parti adesso mi manca il panno lenci quindi ripeto a metto sopra il mio con questo caso ho messo direttamente i pesetti senza neanche utilizzare gli spilli e con il cutter mi ritaglio il quadrato in questo modo è molto facile e preciso con il cutter rispetto alle forbici fate veramente molto prima anche questo cutter vi lascio il link nel box informazioni se desiderate comprarlo su amazon in questo caso cosa faccio la prendo il mio panno lenci sopra ci metto la mia spugna ok così in questo modo è sopra ancora dritto su dritto ci metto il mio tessuto rosa acqua con i miei spilli segno tutto mi blocco tutto potreste in questo caso io ho utilizzato la tecnica di risvoltare il tutto se volete non avete voglia di risvoltare potete direttamente farlo direttamente dritto su dritto e direttamente lasciarlo così magari fare uno zig zag insomma la fantasia dovete sbizzarrirla in questi casi io vi ho fatto vedere diciamo la tecnica più rifinita poi andiamo a macchina a cucire il tutto lasciando una piccola parte aperta per poterlo risvoltare dopo che l'ho passato a macchina mi raccomando dovete tagliare gli angoletti gli angoletti si tagliano nel caso in cui nel momento in cui dobbiamo risvoltare il tutto l'eccedenza della stoffa sarà minore e quindi risulterà la nostra diciamo il nostro la nostra creazione più rifinita ecco questo è diciamo uno dei trucchi diciamo così dal mestiere che vi insegnano comunque tranquillamente in tutte le scuole di tagli e cucito per appunto fare in modo che la cucitura poi risvoltata risulti piatta un po come le tacche diciamo che vengono fatte nelle curve ecco quindi adesso risvolto il tutto in maniera molto semplice anche perché utilizzato volutamente il pannolenci e non il feltro che è molto più difficile perché molto più duro da risvoltare e vi dico che io ho provato tutti e due va benissimo anche il feltro potete utilizzare tranquillamente anche il fatto il pannolenci non è necessario utilizzare il feltro utilizzo questo altro attrezzo della prima e serve appunto come vi starò facendo vedere adesso a mettere al di fuori gli angoli quindi è un tira angoli un porta fuori gli angoli chiamiamolo così in maniera molto spartana ecco qua vedete aiuta proprio a tirare fuori tutti gli angoletti vedete sono usciti perfetti perché ho fatto il lavoro del tagliare l'angolo è molto importante taglio i fili eccedenti e adesso mi devo riportare all'interno la parte eccedente è rimasta aperta ecco qui quindi devo risvoltarla verso l'interno questa volta è più facile rispetto se le fate tonde perché ovviamente la parte dritta è molto più facile da riferire rispetto a una parte curva quindi sono proprio facilissimi da realizzare prende i miei spilletti spillo il tutto per poi bloccarmi quindi le due parti e poi andrò a macchina da cucire e faccio una bella cucitura non ve l'ho fatta vedere nel caso vi faccio vedere un altro video tutorial perché utilizzato un piedino molto interessante che è un piedino con la lamella centrale che è un piedino fantastico non so se voi lo conosciate di già vi farò un video apposito solo sul piedino io ho un po abbandonato diciamo le il tutorial sui piedini ho intenzione di riprenderli in mano vi devo far vedere tanti tantissimi piedini che ho e che vi voglio insegnare ad usare quindi iscrivetevi al canale se volete vederli e non perdervi nessun nuovo video tuttora di cucito mi raccomando ecco qua ho fatto tutto per bene e adesso vado in macchina da cucire e mi faccio un in puntura ecco qua in puntura fatta taglio tutti i fili in eccesso il mio lavoro è terminato la mia salviettina è terminata ecco qua potete passarvi passarci sopra anche un po il ferro io in questo caso sono stata veramente cattiva una cattivissima insegnante non vi ho fatto vedere che bisognava stirare vabbè io non ho stirato ecco potete anche darmi un voto molto molto negativo però stirate 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 ed ecco qui abbiamo finito i nostri bellissimi dischetti struccanti ai quadrati spero che il video vi sia piaciuto e allora mettete un bel like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per non perdervi nessun nuovo video che verrà caricato nel mio canale e mi raccomando aiutatemi vedete tutti i miei video mettete un commentino che mi fa sempre piacere mi tenete sempre compagnia e mi date sempre tanta gioia e noi ci vediamo al prossimo video a sibiri e buon cucito a tutti ciao 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 ciao